Il 2 giugno sarò a Modena alla manifestazione di libertà e giustizia per un'Italia libera e giusta perché questo Paese ha veramente bisogno di libertà e di giustizia. Ci sono tante buone ragioni per partecipare, ne voglio citare una soltanto. Il nostro Paese ha un problema di legalità, o meglio di mancanza di legalità, che viene riconosciuto da tutti gli organismi, le organizzazioni, gli osservatori internazionali. Ecco, una battaglia per ripristinare condizioni di legalità nel nostro Paese non può che partire da una riaffermazione del valore della nostra Costituzione come baluardo di libertà civili, ma anche di legalità e non una legalità qualunque. La legalità costituzionale che si costruisce giorno dopo giorno attraverso strumenti di partecipazione, di coinvolgimento civile, questa è una battaglia importante. Spero per questo a Modena che saremo in tanti. Grazie.